Mezz'ora di grande dolomiti bellunesi, poi eccessivi patemi sino alla rete del definitivo 3-1, che si traduce nel sesto risultato utile consecutivo. Nel piovoso pomeriggio di Villa Franca Veronese è uno show di bomber sviderkoschi ad aprire come si deve, la prima giornata del girone di ritorno. Dopo una rete annullata ai rosso-blu in avvio, il centroavanti capitalizza il dominio ospite con la doppietta personale. Al diciannovesimo va di testa a deviare in porta il lacrosse di Arcopinto, poi dieci minuti dopo approfitta il meglio di uno schema da rimessa laterale. Non c'è però tempo per rilassarsi perché una manciata di secondi dopo perde un brutto pallone Alex Cossalter e Levet in contropiede buca un virvilas forse tradito dal terreno inzuppato. Da lì il Villa Franca cinge d'assalto l'area ospite e meno male al settantesimo è Macchioni a risolvere i problemi facendosi trovare pronto in spaccata sulla punizione di Artioli. Gli ospiti protesteranno poi per altri due gol annullati, su decisioni che in effetti stavolta lasciano parecchia perplessità. A fine gara mister Diego Zanin sorride, ma non del tutto. Nel momento in cui dovevi uccidere la partita non siamo ancora capaci, anzi l'abbiamo riaperta noi la paga, perché una palla nostra l'abbiamo persa banalmente, poi ci sale il fortunio del portiere, può capitare, ma lo sappiamo com'è questo campionato, giochiamo sempre con squadre molto attrezzate, quindi mi rende felice da una parte perché stiamo portando avanti un percorso buono, però non posso fare altri tipi di discorso finché non vedo eliminate queste ingenuità. La Dolomiti Bellunesi ora ha toccato quota 25 punti e domenica giocherà forse una sfida chiave per misurare eventuali ambizioni di alta classifica. Al polisportivo di Belluno arriverà infatti l'Adriese, capolista assieme al Legnaco e con sette lunghezze di vantaggio rispetto alla compagine dolomitica.